Lo Iossi Soli è una vergogna che non sia stato approvato, che venga rimandato. Questa è un'altra vergogna della politica di oggi. Ecco, mi ha portato un bel esempio. Noi italiani siamo raccisti, ma perché non lo vogliamo dire? Senta, negli anni 60 io andavo spessissimo a Torino a lavorare alla radio o alla televisione. Ho visto con i miei occhi dei cartelli sui portoni che dicevano che non si affitta a meridionali. L'ho visto io, sono disposto a dirlo in tribunale. Allora... Sta accadendo di nuovo questo. Se ora non scrivono meridionali, scrivono extracomunitari. Esatto. È la stessa cosa. Ma è la stessa cosa. È la stessa cosa. Lo siamo. Gli italiani brava gente. Ah, la leggenda. Diglielo voi quando c'è stata la repressione di Graziani in Abissinia. Che cosa sono gli italiani quando ci si mettono? Sono come gli altri. Non sono brava gente. Sono brava gente e non brava gente. Abbiamo la memoria troppo corta. Riusciamo a ricordare solo come era composta la Juventus nel 1936 e chi vince Sanremo nel... Purtroppo non tutti hanno la sua memoria Camilleri. Purtroppo in questo paese.